La Fincantieri aveva tre grandi clienti, Grimaldi, Finlines e Minion Lines. Grimaldi ha comprato gli altri due, quindi mentre prima si poteva parlare con tre clienti, adesso ce n'è uno solo. Quello tra Fincantieri e Grimaldi è un connubio che rischia di saltare o quantomeno che rischia di mettere da parte lo stabilimento stabiese. C'è ottimismo però da parte dell'amministratore delegato Giuseppe Bono e dal presidente di Minion Lines Emanuele Grimaldi. Con la Grimaldi abbiamo una grande familiarità. Ha costruito tante navi in Fincantieri. Sono convinto che questo tipo di nave che lui ha ideato e noi ha costruito avrà un grande avvenire. Solo noi al mondo la potevamo costruire con tale velocità. C'è da sentirsi solo tranquilli ma noi dobbiamo stare nel mercato ed essere i più forti, afferma l'amministratore delegato Bono. Però Fincantieri è sì in cerca di commesse ma al tempo stesso sta investendo decine di milioni di euro oltre oceano nei cantieri americani recentemente acquisiti mentre ne basterebbero molti di meno per ammodernare uno stabilimento tra i migliori al mondo che costruisce navi da più di due secoli. E poi c'è il gruppo Grimaldi che si è detto disponibile qualora dovesse commissionare una nuova nave passeggeri a rivolgersi direttamente al cantiere stabiese. Eppure il gruppo partenopeo ha deciso di investire nei cantieri navali coreani, cinesi e croati che dovranno fornirgli rispettivamente 14, 6 e 4 imbarcazioni mercantili nei prossimi due anni. Dunque forse per tornare a lavorare con continuità bisognerà rinunciare allo spettacolare scivolo sostituendolo col bacino di carenaggio il cui progetto è al vaio della regione Campania perché aumenta i costi di produzione. Forse dovrà terminare la crisi economica perché non consente agli armatori di commissionare nuove navi. Forse il governo dovrà intervenire con convinzione e metodo in attesa che fin cantieri torni a camminare con le proprie gambe. Qualsiasi cosa purché lo storico cantiere continui a funzionare.